Pietrabbondante Pietrabbondante, tutto pronto per il concerto dei Badio L'originale trio si esibirà nella cornice del Teatro Sannitico il prossimo 8 agosto. Pietrabbondante. Sta per andare in scena a Pietrabbondante il concerto dei Badio. Pietrabbondante. Nella suggestiva cornice del Teatro Sannitico si terrà, il prossimo 8 agosto alle ore 20, lo spettacolo, You Are Me Sister. Un evento di rilevanza del panorama musicale, eseguito da un gruppo dalle caratteristiche originali e ricercate. Il trio, che prende il nome dalla propria cantante, proporrà un vasto repertorio di musica moderna internazionale, arrangiando brani di artisti del calibro degli U2, Coldplay ed altri. La cantante, una giovane di origine haitiane che dà il nome La Band, ha una voce dal timbro inconfondibile e intenso e per questo motivo ha allattivo diverse collaborazioni importanti. Dopo aver partecipato al talent Tevo Icce, infatti, lavora come corista per il Lunga Axe, Fedez e Alex Britti, per quest'ultimo, in particolare, ha preso parte alle riprese del videoclip speciale. Al pianoforte Baby Grand c'è, invece, Andrea, un pianista di estrazione classica, prestato con success alla musica moderna. Ma, soprattutto, in qualità di addetta agli arrangamenti e ai computer c'è Gianni. Questi porterà in scena Lei Genar, uno strumento futuristico mai visto prima d'ora sui palchi italiani. Forse l'unico, in circolazione. Si preannuncia, dunque, uno spettacolo speciale, in cui le canzoni del moderno verranno riproposte grazie ad orchestrazioni classiche ai suoni elettronici, per un sound inimitabile. Per info è possibile contattare Lenny. 3 miliardi 246 milioni 337 mila 535. Grazie a tutti.